Si è svolto domenica 3 luglio il primo trofeo di corsa in montagna sul percorso Lago Laudemio-Monte Sirino, organizzato dal gruppo sportivo Avis di Lago Negro, la Proloco Kaleidos di Lago Negro e la Sirino Ski. 56 concorrenti al nastro di partenza provenienti dalla Basilicata, Calabria, Puglia e Campania. Partenza fissata per le ore 9 presso il rifugio per un percorso di circa 7 km, dopo un po' però il caos. I concorrenti non trovano tracciato il percorso e si perdono nel bosco, giungendo frazionati da diverse parti e non avendo attraversato il percorso previsto. A livello organizzativo sicuramente c'è qualcosa da migliorare, però era la prima edizione quindi sicuramente sapremo fare meglio l'anno prossimo. Io penso di aver fatto 3,5 km circa e quindi poi ho ritenuto opportuno fermarmi e aspettare qualcuno che mi desse indicazioni per arrivare al traguardo. C'è stato qualche problema tecnico soprattutto per quanto riguarda il percorso, però secondo me siccome l'obiettivo principale era quello di portare un po' di persone sulla montagna e fare promozione all'associazione, all'Avis, credo che almeno da questo punto di vista siamo riusciti comunque a portare un numero cospicuo di persone sul Monte Sirino. Paesaggi spettacolari, infatti abbiamo apprezzato anche l'organizzazione, quindi anche se alla fine ci siamo un po' persi, però indubbiamente ci ritorneremo, perché è molto molto bella la Basilicata, anzi la consiglio io, io sono pugliese, ripeto questi posti per me sono incantevoli. Vorremmo maggiore attenzione e l'attenzione purtroppo per questi posti che sono diciamo sovracomunali non è sufficiente quella che i comuni possono prestare, noi sappiamo che i comuni in questo momento sono assolutamente in disagio economico e i fondi che possono spendere per aiutare i percorsi anche di crescita delle attività turistiche sulla montagna purtroppo sono poche. Da che questo Presidente della provincia si è insediato non ha fatto una sola cosa per il comprensorio del Sirino, potrebbe per esempio, visto che loro hanno fondi per la viabilità, aggiustarci le strade. Questa è una richiesta che come consigliere di opposizione al Comune di Lago Negro io credo andrebbe fortemente motivata e noi non abbiamo più rappresentanti provinciali che il Presidente della provincia si occupi di noi. Nel nostro servizio non vi diamo una graduatoria d'arrivo perché ci è sembrato inutile in quanto la classifica finale è stata redatta a tavolino con l'accordo delle società partecipanti. Parliamo del futuro prossimo per quanto riguarda organizzazioni della Proloco, che cosa è previsto per il Comune di Lago Negro? Allora, come prossima manifestazione sportiva abbiamo in servo il 24, la prima gara nazionale di mountain bike qui a Lago Laudemio in collaborazione col ciclo Team Valnoce. Poi ad agosto inizieremo con le manifestazioni che ormai sono una tradizione, ovvero la festa dell'emigrante, la partita del cuore. Quest'anno ci sarà una novità perché dopo aver stillato un protocollo di intesa con altre proloco del circondario abbiamo aderito a questa manifestazione che porta il nome di Policastro Jazz Festival. Grazie.